Ashera New York ha rinnovato la sua gamma di prodotti per il gaming della linea Predator, quindi una linea molto famosa e in questo caso parliamo del Desktop G1 e della linea di monitor Z1. Il Desktop G1 è molto interessante perché presenta un corpo davvero molto compatto, sebbene sia un tower e infatti ha una capacità di circa 16 litri ma all'interno ci stanno addirittura delle schede video full size come la Nvidia GTX Titan X, quindi una scheda di dimensioni davvero molto importanti. Inoltre questo computer può essere acquistato con processore Intel Core i7 fino a 64 GB di memoria DDR4 e ovviamente SSD ad altissima capacità. Una delle cose interessanti di questa macchina oltre alle sue prestazioni davvero incredibili è il fatto che Asher supporta tutti e quattro i visori VR quindi dall'HTC Vive all'Oculus all'OS VR e tutte le altre soluzioni presenti sul mercato e quindi questa è una macchina davvero consigliata per chi si approccia al mondo del VR dato che è compatibile con tutte queste soluzioni. Arriverà sul mercato a partire da luglio ad un prezzo consigliato per il modello base di 1199 euro ma chi vuole un desktop da gaming che possa stare veramente su qualsiasi scrivania deve puntare su questo prodotto. Se invece però vi interessano i monitor, i monitor curve in particolare, allora la gamma Z1 risulta essere molto interessante perché innanzitutto è disponibile in vari tagli e dimensioni da 27 passando per 30 fino a 31,5 pollici ha una risoluzione ovviamente ultra wide perché è un monitor 21 noni e quindi si riesce ad avere una ampia visuale di gioco e un'esperienza veramente immersiva all'interno di qualsiasi titolo. Sono monitor curvi con un raggio di curvatura di 1800R e hanno soprattutto il supporto al 100% dello spazio sRGB e quindi anche sono adatti per calibrare e per utilizzare programmi di fotoritocco e quindi avere un display molto calibrato. Arriveranno anch'essi a partire da luglio ad un prezzo consigliato per il modello più piccolo dai 599 euro e poi si sale ovviamente per i modelli curvi più grandi come quello che è presente alle mie spalle. Insomma, tanti prodotti per il gaming come anche il 17X che è un notebook di cui trovate l'anteprima sul nostro canale. Noi comunque ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per il goal.com. Andrea Ricci